Signora, vedo che ha comprato Dash. Sì. Io le offro questi due fustini di un altro detersivo e in cambio mi prendo il suo Dash. No, no, mi dispiace. Non accetta? No, no, no. Per quale motivo? Appunto perché mi trovo benissimo, i panni vengono bianchissimi. Lei indossa qualcosa lavato con Dash? Sì, questo. Io lo trovo fantastico. Cioè, che non lo farei a cambio con nessuno appunto perché mi trovo bene. Pure se non ce n'ho, io non lavo, di quando non compro il Dash. Visto? Dash non si scambia, perché più bianco non si può. Dash non si scambia.